Punti da 2017, Forza Lega! Cosa significa essere qui a Punti da 2017? Sicuramente oggi è anche una giornata particolare perché dopo questo che è successo, dopo l'attacco che abbiamo avuto sulla questione anche del blocco dei conti correnti bancari, penso che sia veramente fondamentale che siamo tutti quanti qui presenti oggi per dimostrare che non è che siamo un popolo unito che marcia tutti insieme verso la libertà. Forza Lega! Forza Lega! Ok. Forza Lega! Forza Lega! Lorenzo, cosa significa essere qui a Punti da oggi? Significa dare un segnale chiaro rispetto a quello che è successo nell'ultima settimana, far capire che non abbiamo paura, che continueremo e sicuramente ci presenteremo alle prossime elezioni per vincere, nonostante tutto e nonostante tutti. Forza Lega! Forza Lega! Forza Lega! Forza Lega! Susanna, per te essere qui a Punti da oggi cosa significa? Io ormai sono sette anni che vengo a Punti da e ogni anno è un'emozione sempre che si rinnova, sempre nuova, sempre molto bella. Parlare dal palco poi oggi per me, rappresentanza di tutti i sindaci come me, è stata una grande emozione. Noi aspettiamo comunque che cambino le cose da Roma perché il sindaco è l'ultimo anello di una catena e noi ce la mettiamo tutta veramente per dare risposte ai cittadini, ma se non cambiano le cose da Roma sarà difficile a esaudirle tutte, quindi Salvini Premier e Forza Lega sempre. Forza Lega! Forza Lega! Forza Lega! Forza Lega! Puntito 2017, anche questa manifestazione è finita, è andata davvero benissimo, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo video e soprattutto mettete mi piace e condividetelo con i vostri amici. Noi ci rivediamo mercoledì prossimo, sempre su questo canale YouTube con un nuovo video. Prima di salutarci vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, in questo modo sarete sempre aggiornato sui miei prossimi video per cui iscrivetevi. Un caro saluto, a presto!